ci troviamo oggi a rimini alla fiera di chi energy e in questo per quest'anno quello che noi andiamo a proporre sono le nuove batterie impilabili sono sia da 2,5 che da 3 virgola 6 kilowattora si si possono andare a impilare fino a 13 moduli batteria e anche questo è un nuovo prodotto che va ad ampliare la gamma di prodotti che noi andiamo a proporre nell'ottica della sistema comune quindi oltre ai pannelli oltre all'inverter e alle colonie di ricarica il nostro obiettivo è quello di andare a fornire tutto quello che può servire per un sistema fotovoltaico